Buongiorno Balsano del Napoligno? Benissimo Raffaele Allora, facciamo tema libero, voglio cambiare un pochettino in tal senso da cosa vogliamo cominciare? Dall'articolo abbastanza turbolento della Gazzetta, da Napoli-Lazio, dalle difese tutt'altro che bunker del Napoli Certo No, però diciamo che in quel settore è un tombo di tutti, quindi diciamo che è una concerto, un'arte e un po' di tutti, diciamo l'argumento di tutti, sia dalla nostra differenza, ovviamente, dall'ottomobile, poi penso che ovviamente non ci è stato sempre il comunicato della società, ovviamente, altrimenti non mi va a fare, non penso che avrebbe avuto questi motivativi, mi sembra anche giusto. Penso proprio, quindi diciamo che alla fine è il sentimento di tutti, il comportamento di alcuni squadroni confronti nella classificità, e diciamo non è molto, cioè non è il sentimento appunto di appuntio, adesso è molto difficile, se è accaduta, se è accaduta, se è accaduta, se è accaduta. E' inutile soffermarci in qualche minuto in più, se fosse proprio a riassistirsi da questo punto. Eh beh, effettivamente sì, anche se ci potesse soffermassimo per qualche minuto in più, insomma, la situazione non cambierebbe, sempre ammesso che chiaramente venga, sia realmente uscita questa parola, però magari noi ci affidiamo allo stesso, alla buona fede, insomma, della notizia, della fonte, e quindi, insomma, possiamo, non so, prenderla anche per buona, anche perché poi vediamo squadre come Sassuolo e Sampdoria, effettivamente scansarsi, ma forse è anche vero che la Juve comunque a priori è sicuramente più forte. Però, ecco, facciamo un salto a domani, ecco, diciamo, un salto temporale. Napoli-Lazio, che sfida è secondo te questa? Il tuo omonimo Ciro, diciamo, ormai ci giochiamo un pochettino su questo, e si aspetta una, si aspetta invece una buona partita. Tu invece? No, io a quando pare condizio, appunto, per il mio omonimo, quando tu, l'altra volta non vivetevo molti con me, in cui mi vicino, non l'ho accortato oggi, purtroppo, perché non mi va a fare, però è effettivamente difficile. Sono d'accordo, cioè, sarà una bella partita, secondo me. La Lazio si è ripresa, è una proposta, secondo me, cioè, in Italia ha cambiato il sistema di gioco, ha giocato molto più di due stelle, poi lo abbiamo sentito immobile davanti. Il problema è pericoloso, è molto pericoloso, a me è sempre pericoloso una giocatura in modalità, ora, al di là delle attive per i dati di niente, appunto, attività di russi all'automundo, probabilmente per un fatto di ambiente, per un fatto di, appunto, adattamento su una terra straniera, e penso che in Italia è un attaccante di nuovo piano, appunto. Quindi è molto pericoloso, soprattutto adesso che noi abbiamo alcune problematiche. la Lazio comunque sta giocando davvero bene, inaspettato, noi penso che la rosa della Lazio sia una rosa un quanto modesta, ora ci sono stati alcuni costituzionali giocatori, prenderei dalla Lazio durante due compi, che sono i più motivi che abbiamo avuto, non so, Felipe Anderson, Felipe Anderson, c'è visto, per niente, se stuato il primo anno, poi è andato a... Poi è andato scemando, certo. Ha avuto delle annate, appunto, di gastrute, compresa quest'anno che non è proprio esattamente di gastruta, come è andata a tutti. Però non riesce a essere, appunto, ai livelli degli gastrianti. Però ti ripeto, cioè, penso che in Italia ha fatto un ottimo lavoro alla Lazio, probabilmente perché conosceva già l'ambiente, quindi sta trasferendo anche quella voglia, diciamo, di onorare, per chi volete, la maglia, e quindi i giocatori diventano completamente immersi nei campi del terapia e in questione l'attuale. Effettivamente, sì, è una partita, perché non è una partita che è prevenibile per questo punto di vista, quindi possiamo dire, cioè, qualche giornata fa dovevamo dire che le proprieità erano a nostro vantaggio, a nostro favore, perché giocavamo in casa. Ora che, appunto, in qualche occasione, in una partita, appunto, che si è finita in casa, poi in qualche occasione abbiamo dimostrato alcune problematiche, quindi, diciamo, non è più così semplice questa considerazione riguardo alle partite da pagina. Sì. Penso che, alla fine, ci sia una possibilità, sicuramente, di vedere una bellissima partita. Speriamo, appunto, che riusciamo a ritrovare l'equilibrio in un gioco. Beh, credo che sia fondamentale, soprattutto, per riuscire a fare risultato. C'è stata una buona prova di carattere contro il Besiktasin in Turchia, ma, ecco, insomma, bene o male che ha pareggiato Amsic, perché, se no, ecco, si potevano creare problemi su problemi, ecco. Sì, decisamente, perché io ho la partita valide, quella con i turchi in Turchia, è stata una partita molto strana, molti errori, partite in quanto c'è. e io penso che la posizione di Turchia è difficile, nel diritto sommato. Il problema è sempre lo stesso, cioè, da quando ho visto che ho fatto male, non riusciamo a concretizzare più, perché, partita di personale, perché la partita vede benissimo che i meccanismi, non sono forse gli spessi dell'anno scorso, però, sono sempre meccanismi di guardia e per spesso. Sì. è preoccupante perché se su dieci azioni non riesci a concretizzare, non dico a segnare, ovviamente, diciamo, a prendere lo specchio della corte, a essere pericoloso, o otto posti di dieci, per finire un'area di sì, per il tuo Stato, subito la maggioranza. Perché non riesci a riassertare, diciamo, la partita del termine di dominio, tra virgolette. Quindi, ovviamente, se tu non riesci a segnare, quindi non riesci ad avere il pazzino del piomo, soprattutto da un punto di vista del Stato, la squadra avversaria prende coraggio da questo punto di vista. Certo. Quindi la difficilità subisce di più. Abbiamo visto che, praticamente, la difficilità subisce molto di questo obbligio momento. Ora, possiamo dire quasi qualsiasi cosa, possiamo dire che è anche oltre che si manca o altre cose, però, numeri alla mano, quando al giorno non c'è, la difficilità prende più un punto. Ora, possiamo dire anche che con al di oggi avremo preso i stessi punti. E' un'ultima, visto che non solo metto, lo diciamo, un po' sottipo. Certo. Però, numeri alla mano, Napoli, con al di oggi, in difficilità, prende l'altro punto. Ebbè, d'altronde è un'assenza importante e sottolineiamo sempre prima, con il tuo omonimo, ecco, però era, sono stati più errori, chiaramente, dei singoli, quindi, Goulam, Koulibaly, anche Maximovic, con il Besiktas stesso. secondo te, che cosa bisogna, ecco, mettiamo, mettiti, diciamo, in tuta, versione Sarri, cosa cambieresti, ecco, a partire dalla prossima gara con la Lazio? Ebbè, insomma, magari, vincere, soprattutto, sarebbe importante, anche perché c'è appunto questa sosta che forse effettivamente per i nostri azzurri e gli altri sono bianco-celesti, chiaramente, insomma, potrebbe tornare utile sosta poi neanche tanto, visto che comunque i giocatori, quelli più importanti, se ne vanno sempre via. Sì, aggiungo soltanto una cosa sull'affetto l'uomo, appunto, cioè, sono errori individuali, però bisogna, vorrei sottolineare che alla fine degli organi potrebbero farlo scopare, che al viola razza sembra l'uomo di punta, quindi, a mio abito, gli errori individuali nascono perché quel bambino non ha ancora un carisma dal punto di vista di questo. No. Quindi, l'esperienza che ha avviato, ora, possiamo lotare oppure criticare il valore generale del giocatore, però, è in dubbio all'esperienza dell'azienda quindi come guida l'azienda di oggi non la può guidare essenzialmente qui, quindi mettendo diciamo il giocatore alle prime armi nella nostra squadra di questo oppure come Dilykes che ha avuto diciamo come i momenti a scatenarsi è diverso rispetto a Albiol che comandava la città. Quindi, questi errori siano dettati essenzialmente dalla figura carismatica anche se ci rivedo, cioè a me è piaciuto questa queste masse appunto estagerate di giuridiche in confronto di Albiol perché Albiol appunto ha sempre fatto delle partite buone, delle partite relative come tutti ci schiereresti è fortissimo però poi alcune volte si attormenta contro la lunga quindi penso che sia proprio una problematica cioè relativa al carisma dei giocatori che non riesce a mantenere la vicenza con il fatto di questo rispetto a per quanto riguarda poi appunto le scelte riguardo alla partita ci schiereresti in campo sì io penso che l'ultima partita abbia accenuto essenzialmente che le preferenze accenziato l'anno assolutamente rinunce verso Gavara e Gavara davvero si sta dimostrando di essere un giocatore nonostante l'età un giocatore che sembra appunto aver giocato una grande squadra e è sempre stato di quattro giocare in campo di Gavara e quindi penso che ci siano alcune possibilità di venire anche con Gavara io me lo auguro quantomeno anzi Gio rincaro la dose su Gavara ecco già qualche giornale dopo due tre partite buone ha scomodato un paragone niente male con con Giaia Touré complice anche credo soprattutto le parole di Maurizio Sarri che nel post gara del match di Champions League ha detto o è un incosciente o non lo so insomma sembra un veterano qualcosa del genere ecco insomma vado non paro paro ecco diciamo di quello che ha detto Sarri perché comunque poi alla fine è stato un elogio perché dice sembra che giochi come se stessi facendo la partita del giovedì quindi diciamo con non saprei come dire diciamo con esattamente esatto in leggerezza diciamo con la spensieratezza appunto di un diciottenne sì no ma io penso che alla fine della raggia ancora io già la seguo da molto tempo io che faccio un uomo di pacaccio che la raggia l'anno scorso mi ha portato una buona media eh beh beh penso che sì ci ha giusto lo dare a tutte le stazioni però ti fanno anche considerare che due parti che hanno fatto la stagione no infatti quello che ha fatto vedere adesso fino adesso è ottimo praticamente ovviamente nella globalità fina stagione quale sarà la qualità io continuo a rivedere per me sui punti di risposta sento che l'accostamento con gli ariamuri non ci sia per niente è un po' presto magari magari non so chi l'abbia mai fatta cioè non so chi abbia mai visto gli ariamuri veramente cioè non riesco a concettere questo accostamento perché sono due giocatori secondo me diversi poi non lo so può essere anche che io conosciuto un altro gli ariamuri ma gioco io ma magari fosse come il centrocampista del City non c'è le calcifiche completamente differenti Giavarà è fisico però gli ariamuri aveva i piedi completamente diversi da Giavarà Giavarà è forte tecnicamente non è non lo so io penso che sia meno forte di Giorginio tecnicamente il gioco in esaltazione del gioco è più forte di Giorginio sicuramente però i piedi di Giorginio ce n'era un altro di mezzo poi è pure sbagliato secondo me fare subito dopo due partite questo paradone inappropriato così giusto per non mettere pressione sì ma è assurda questa cosa è vero sempre questa volta ogni posto che si vuole un giovane mi fa più obbligare praticamente al giocatore no perché come se non bastasse come se non bastasse Ciro abbiamo Giavarà che Giaio Ture Marco Rog che sembra il nuovo Rakitic o il nuovo Modric quindi amen magari abbiamo un centrocampo mostruoso non dobbiamo fare più acquisti a gennaio poi io ho capito questa volontà di cercare di militare per me è proprio il faggato che Giavarà deve fare Giavarà non deve fare nessun altro giocatore Certo Giaio Ture ha fatto il suo tempo è stato un grandissimo campione e questa voce ha esagerato di poter paragonare effettivamente i giocatori soprattutto questo giorno ovviamente siamo in venti o poi in qualche altra cosa nella loro espressione di data cittica a Miki appunto praticamente giocatori effettivamente corticine è sbagliato certo a mettere pressione al giocatore per questo comunque sono state due prestazioni completamente profondamente ottime di Giavarà che ha mostrato molto più fisicità di Giorgino che è un'esercizio basta vedere come è andata nei contratti appunto come gestava pure il gioco come tranquillamente se doveva fare la giocata la voceva quindi sembra proprio assumere col tempo a mano che viene dalla fiducia sembra prendere sempre maggiore esperienza e quindi questa è la cosa positiva prima perché è appunto un acquisto nuovo e quindi è positivistima come cosa per quanto riguarda gli altri giocatori penso che non lo so probabilmente sarebbe il rischio oppure in attacco penso che sia quella la formazione i piccoletti ah tu ti aspetti i gabbiadini io mi aspetto i piccoletti chissà chi avrà ragione vediamo la scopriremo domani come sempre appunto sia di vedere il trio di younger 1 e 70 tra gli anni oppure le dire i gabbiadini appunto a posto secondo me più di infine che di make sense ovviamente non le possibilità di tranquillamente possono verificarsi e poi in difesa appunto ci saranno i titolari non ci saranno tanti tanti ovviamente di trito anche perché se ricordi la settimana scorsa pensavo che non di spettura contro di avara invece ci ha sorpreso Sarri è chiaro perché poi ha giocato anche benissimo davanti a quei mostri da questo punto di vista allora aspetto anche Rob per essere sentito magari noi lo consideriamo proprio al momento come un intervento di cittadano può essere che stasi appunto lo posso utilizzare quanto prima magari per vedere di che è fatto il gioco siamo tutti davvero molto curiosi di vederlo all'opera veramente speriamo che forse è difficile vederlo nella gara con la Lazio ma sicuramente a partire dalle prossime magari vedere questo giocatore ci può dare una sensazione positiva o negativa seguendo chiaramente della sua prova Ciro prima di salutarti e ringraziarti che dici vogliamo azzardare un pronostico o andiamo di scaramanzia no e penso appunto come avevamo aspettato a fronte dalla gioventi non aspettando risultati però penso che la partita era da fare il gioco al gioco penso che appunto sia un risultato a livello percentuale di percentuale maggiore per il Napoli a livello 2-1 però ovviamente non bisogna sottovalutare la Lazio no assolutamente a livello di prestazioni rispecchia sostanzialmente la quantità e il posto infatti di quindi penso che ci potrebbe essere la vittoria del Napoli ovviamente ma c'è anche una bassa percentuale riguardo al paligio ovviamente però spero che ci sia una quindi poche possibilità della Lazio e vittoria del Napoli perfetto e beh questo è chiaramente l'augurio anche perché insomma io domani sarò al San Paolo ma credo sia un dettaglio va bene va bene grazie Ciro è come sempre un grande piacere e ci ritroviamo molto presto sicuramente a partire dalle prossime puntate di Sottoportascio grazie Ciro un abbraccio ciao grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti